sia un fatto irrazionale, sia un fatto governato da, che ne so, la congiunzione di Giove con Saturno e la Luna che passa in quella casa piuttosto che in un'altra, tu usa quello, voglio innamorarmi, cioè se mi innamoro, se non mi innamoro, amen, e questo è quello che devi usare. Bene, comunque per questa live è tutto, questa sera penso di farne uno un po' forse sul tardi di live, credo, perché non so se vada a tango, penso di farla, e comunque chi non l'avesse sentita dall'inizio, suggerisco di sentirla dall'inizio perché poi domani andiamo avanti con la seconda puntata, quindi risentitevela. Ah, stasera salsa, tu vai gatto? Ma io non so perché dovrei andare a tango ma ci sarebbe Genova, però perché Savona ormai sinceramente di prendermi la macchina e di andare a Genova non ne ho molta voglia e quindi non so se lo farò. Vabbè, comunque, quindi un saluto a tutti e penso che ci vediamo dopo. Ciao a tutti, chi c'è c'è. Ciao a tutti, buona cena.